Non è stato utilizzato, però probabilmente avrà sofferto più dei suoi compagni per vincere questo derby. Esatto, è stata molto tesa la partita fino agli ultimi secondi e quindi appunto è stata da fuori, è stato molto difficile da guardare, però complimenti ai ragazzi. I derby dimostrano ancora una volta che Lugano ha più cuore, ha più grinta, però questa Umbri chiaramente sembra che non mola mai. Anche questa sera vi ha messo un pochino di difficoltà, soprattutto quando è riuscito ad impattare dal 2-0 a 2 pari. Sì, sono tornati da sotto 2-0, noi però questa volta siamo stati bravi a non panicare, abbiamo subito segnato la rete del 3-2 che ci avanza la vittoria. Ti ringraziamo e bocca al lupo per le prossime partite che saranno sempre fondamentali per tirarci fuori da questo brutto periodo di classifica. Va bene, grazie.